Presentate questa iniziativa che si terrà il 5 settembre al Teatro d'Annunzio, un'iniziativa fortemente voluta da voi, patrocinata dall'amministrazione comunale. Sì, dobbiamo dire innanzitutto grazie al Comune che ci ha dato questa opportunità, ma dobbiamo dire grazie anche al Paintbox, che è la band che con la sua musica, riconosciuta ad un certo livello, ci offre questa opportunità di poter raccogliere dei fondi per il nostro progetto. È un momento particolare dal punto di vista economico, ma è anche un momento particolare per il valore da dare a questa serata, grazie anche alla presenza di una vocalist di alto rango dei Pink Floyd. Lo facciamo per beneficenza, ci vengono incontro, sono loro che si offrono, il che è soltanto positivo e ci aiuta veramente sotto tanti punti di vista ed è una spinta in più anche per quello che stiamo cercando di fare per i bambini. Noi abbiamo il progetto AIT, Accoglienza, Integrazione e Territorio, ma non è che non l'abbiamo iniziato, questo progetto è già iniziato prima dell'estate, quando la Caritas ci ha coinvolto nel progetto dei bambini ucraini e ci hanno destinato un certo gruppo di bambini. Lì per lì non era nulla, però dopo abbiamo scoperto un fattore abbastanza pesante. Erano bambini sordomuti, quindi allora abbiamo dovuto cercare di trovare delle persone idonee, perché oltre ai nostri volontari, la pediatra, le psicologhe, il mago stesso, le insegnanti e i volontari, abbiamo dovuto trovare delle persone che conoscessero la lingua. C'è stato di aiuto una signora ucraina che, nonostante lei fosse sorda, è una persona che conosce la lingua dei segni e ha la fortuna di conoscere il labbiale.